SIGLA Sai cosa ti dico? Che sei buono, veramente buono. Io? Non ho piacere che tu lo frequenti, e basta. Guarda bene, Gwendalina, guai a te se venga a sapere chi hai rivisto quel ragazzo. Così, improvvisamente le è venuta la mania per te. È sola, dice che s'annoia. Appunto, ora ha bisogno della dama di compagno. Sì, te fai l'imbecille, ma io capirai. Ti vuole dominare, o... Gwendalina, ma ti pare giusto che una ragazzina come te passi la notte fuori con un ragazzo? E perché no? La mamma non l'ha mai potuto vedere. Io invece ci sto bene con lui. Che male c'è? In mezzo a tutti è l'unico che mi capisce. E' un ragazzo meraviglioso, così leale, onesto, caro Oberdan. Gwendalina? Gwendalina! 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 Vieni qui. Gwendalina! Grazie a tutti.